ok ragazzi e ragazze rieccoci di nuovo su zombie combat simulator allora era entrato un giocatore nella seconda partita e adesso stiamo iniziano a giocare la terza quindi adesso prima di tutto mi scelgo l'arma adesso un po guardiamo qua ecco perfetto allora che arma potrei scegliermi ecco il p90 di sicuro è un'arma abbastanza efficace aumentiamo la resistenza anche se fa meno danni rispetto a no sono già diventato uno zombie ma c'è ancora ok sì c'è ancora il giocatore ok uno l'abbiamo trasformato in stilt minchia ma quanta vita ho adesso perché ne ho così poca ce ne ho poca non so se lo vedete ecco infatti ciao pochissima vita abbiamo già iniziato bene dove esserci un giocatore eccolo laggiù no 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 non mi colpite adesso sono diventato un nightmare sì ecco perfetto abbiamo trasformato in hive e io ci sto morendo malo vabbè spero di ecco perché mi sto muovendo in questo modo no sono laggato raga mi sto laggando mi sto muovendo come un iposers cioè facendo la posa ai altro che la tipose perfetto ma perché c'è se baggato cioè o no perfetto ok ora mi muovo normalmente almeno spero per questo c'è io gioco pochissimo al multiplayer perché c'è sinceramente quando si bagga così e non lo sopporto proprio ok sono entrati nuovi giocatori anzi è entrato uno nuovo ghost x è entrato un altro giocatore va bene ok ok provo solo no non so se parla se parla inglese o meno io provo vabbè io provo a salutare per essere gentili insomma no ok abbiamo vinto noi a parte dovrei festeggiare perché abbiamo vinto noi zombie però prima ero umano non è giusto vabbè almeno entrato per il momento anzi sono entrati due giocatori che si chiamano player che non hanno scritto il nome vabbè dai adesso si sta affollando insomma almeno spero cioè a parte che ogni volta che gioco in multiplayer crea una mappa se ne vanno tutti via vanno o vanno a giocare in un'altra mappa a parte che una volta ho giocato una partita che è stata bellissima avrei dovuto farci un video peccato che sono perdonatemi il termine stronzo quindi sono insomma avrei potuto portarlo però non l'ho fatto ok quindi allora adesso sono indeciso allora ecco magari prendo il laser rifle che adesso fa 85 180 di danno e come terza arma e niente prendo l'omp 45 e aumentiamo la resistenza adesso è anche un'arma potentosa io provo a salutare con un ola o perché non so perché metà dei giocatori che giocano a questo gioco sono inglesi o spagnoli oppure vengono buono lo so cioè io perché io sono nel server europeo no 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 maledetto 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 quindi io mi butto e a parte che sono non sono tanto intelligenti gli zoom perché basta semplice player no 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 qui è proprio una situazione del ma ecco del ma del ma del ma quindi scappiamo gambe elevate che probabilmente moriremo male e verremo infettati male ecco a parte che adesso faccio la citazione a barbascura x o x cavolo ho entrato un giocato un giocatore con no scherzo vabbè sarà entrato un giocatore cinese o giapponese e beh insomma adesso la mappa insomma si stare in piedi di lui non me ne sono neanche accorto ok fortuna che quest'anno spara una rapidità no 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 siamo fregati fregati no ghost x no 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 si è trasformato in uno stilt se si pronunci uno stelt o stilt quel che è ecco dura la vita di un sopravvissuto in zombie combat simulator vabbè abbiamo fatto più danno noi esperienza cioè insomma un colpo alla testa abbiamo fatto una sola kit però siamo andati meglio degli altri e allora io direi di fare una seconda partita che adesso un po' si è un po' affollata quindi adesso prendi magari manteniamo il laser rifle e prendiamo come seconda arma ecco prendiamo no aspetta eh no si dai prendiamo questa che fa più danno e vabbè abbiamo il 10% di resistenza utilizziamo l'SFD ok che anche se spara colpi in semiautomatico è abbastanza potente perché fa 300 di danno poi comunque se volete sapere quanti danni fanno realmente basta anche andare a vedere sui miei video che faccio di zombie combat simulator fa battaglie fra umani e zombie poi adesso vedrò anche un giorno se portare a un prossimo video dato che ad alcuni piace insomma cioè ad alcuni ha proprio pochissimi insomma piace ok almeno tipo cioè è stato oh questo è bellissimo perché sembra quasi che arrivi un'orda tipo alla world world z so che è anche uscito il gioco di world world z quindi c'è una roba incredibile non sarà un capolavoro col gioco ma è una roba bellissima beh io ho fatto 0 proprio 0 kill quindi io adesso ho fatto l'attacco ecco adesso ho trasformato in stile no 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 vabbè tanto almeno ecco bravi vabbè tanto ci penso io con quest'arma perchè è un'arma abbastanza potente se me la faちょっと se me la fa cambiare ok no 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 no!! proprio insomma non che me l'aspettassi o qualcosa del genere proprio non me l'aspettavo che mi arrivasse un'orda in faccia Vabbè almeno abbiamo fatto una kill E dei giocatori probabilmente hanno abbandonato la partita Forse due Vabbè Prima o poi vi anche termino qua questo video Ok Ah Tanto possiamo Adesso che siamo Ecco io sputo Che sarebbe ecco Sì una bella idea Dato che siamo naive Però mi sono bugato Ecco ora finalmente posso muovermi Ecco dobbiamo eliminare gli ultimi umani Quindi dato che sono più intelligente Degli altri Oh La mia intelligenza umana è rimasta Non sono del tutto umano Ma ho una certa intelligenza Vabbè a parte che si lagga un po' il gioco Ecco ne è rimasto solo uno Quindi No Adesso proviamo a colpilo a questa distanza Dai 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 No non siamo riusciti a fargli danno Però è spacciato ormai Sì abbiamo vinto Sì abbiamo vinto ragazzi Ok Allora Non so ragazzi Io Termino qua questo video Beh niente ragazzi Questo video di zombie combat simulator Termina qui Spero che Questo video Vi sia piaciuto Allora Magari Speravo di magari Portare qualcosa di migliore Magari A parte che alcuni giocatori Hanno abbandonato la partita Quindi sarebbe Stato bello Se fossero rimasti A giocare Magari ci saremmo divertiti Di più però è stato bello insomma Avevo fatto anche Cioè partite Senza portare video Di zombie combat simulator Che erano Molto meglio di Queste C'erano meno lag C'era più connessione Quindi Era abbastanza giocabile La partita E cioè Io mi sono divertito Fare il cerchino Alle postazioni È stato bellissimo Una partita Indimenticabile A zombie combat simulator Avevo anche incontrato Un giocatore italiano Quindi non sono l'unico Che gioca a sto gioco Però sono l'unico Che porta video In italiano Di questo gioco Però niente È anche Stato bello Anche portare Questi nuovi video Di zombie combat simulator Perché È Diciamo Uno dei miei giochi preferiti Che Porto spesso Sul mio canale È anche È bellissimo Che fanno Dei continui cambiamenti Degli aggiornamenti Nuovi Spero che aggiungeranno Nuove mappe Nuove armi Spero anche Che mettono Anche nuovi infetti Perché hanno messo Solo il crower Come nuovo infetto Speciale Però niente Bello come gioco Niente ragazzi Io termino qua Questo video Spero che Il video vi sia piaciuto E quindi Se vi è piaciuto Mettete like E Se volete Iscrivetevi al canale E Se siete già iscritti Attivate la campanella Per i prossimi avvisi E ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti